al festival di sanremo 2021 con ogni probabilità ci sarà il simpatico roberto benigni e il bravissimo checco zarone sarà affidata ancora una volta questa edizione del festival di sanremo 2021 ad amaleus e al buon fiorello per il resto tutto è in una condizione di incertezza e se fino a poche settimane fa la notizia di un possibile slittamento dal festival del 2021 programmato dal 2 al 6 marzo 2021 in base al numero dei contagi da coronavirus la di fabbricio solini avrebbe detto che sta per valutare il periodo migliore per un'edizione ricca e al tempo stesso intensa insomma non è semplice non è facile cercare di capire quindi comprendere quando effettivamente ci sarà però da come si legge sul web secondo diverse indiscrezioni sembra proprio che sul pacco dell'ariston quest'anno dove c'è nel 2021 saliranno il buon roberto benigni e il simpatico che cosa non è vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi commentate ciao attraverso il narratore italiano